Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Gansgore Cannoli Andiamo pure avanti e vediamo che succede Oddio, divieto di buono a quanto pare Ok, no, questo non volevo più che signorina non è che volessi Insomma, mi ha capito Mamma mia, sei concitata la cosa Vediamo come possiamo fare No, lei non mi piace, lo sa, gliel'ho detto mille volte Ecco qua, ok, poverino si è fatto malo Eccoli qua, siamo a postolo Andiamo a sfondare questa porta a calci O salve Mi dispiace tanto Mi è rimasto poco Ok, ok Carichiamo Qui aspettiamo che lui si carichi e poi spacchiamo il culo a tutti Vai Ecco qui, Batman e Inferno Non lo so, perché insomma sei sempre qui E che cavolo Ok, ok Oh cazzo E magari un'altra volta Oh, cavolo, questi ammazzati sarebbe stato dura Ma anche questi ammazzati sarebbe stato dura Che bella cosa Ok, mi ha fatto una bella strage Ma perché questo cespuglio si muove da solo? Guardate Si muove il cespuglio Com'è possibile che si muove il cespuglio? Com'è possibile che il cespuglio si muovi? Eh, vabbè Oh, non l'ho preso Tac Tac Eh, doveva caricare Mi si muove Ok Andiamo a vedere di qua se c'è qualcosa C'è un cazzo Perfetto Carichiamo Siamo carichi Oh, salve Siamo pieni? Siamo pieni Eh, vediamo che figura di merda allucinante possiamo fare adesso Vai Eh, non ho le bombe Ho detto vai Però le bombe non le avevo Le hanno loro, penso Ma salve Eh, aspettando un attico Eh, no Cose si vanno Eh, avete l'altro cazzo, eh? Ok Ok Vai Vai Benissimo Benissimo Quando ci vuole, ci vuole Però alla fine Mi hanno fatto un bel culo, eh? Eh, che cavolo Oh, ragazzi Insomma, a un certo punto Sì, ma qui mi stanno facendo il culo Accidenti a loro Porca vacca Che fase concitata Vai, vai Perfetto Non poteva andare meglio Ti l'ammazzi, ti l'ammazzi Ti l'ammazzi? Ti l'ammazzi? No, non l'ammazza Aspetta a te, vacca Io qui da fare Ok, facciamo così Oh, cazzo Vai da accidenti a te Oh, sei morto da solo Si è morto da solo Guarda l'italiano Mi sa che questa è meglio che la conservi Aspetta, sei stato veramente bravo Eh, sei pazienza Se ti sei fatto male Ti sei bustolito Insomma, sì Oh, ok La salvezza Non siamo pieni Ma poco ci manca Mamma mia Stanno incominciando ad essere veramente Concitate Non me l'aspettavo Scusate Perfettico Oh Cosa gradita Oh, ragazzo Però Insomma No, no, no Scusate Ma dove ne tira le bonte questa? Non si tira così Ecco qua Eh, io ci sto provando ad andare a calci Quello strontro Ma Sono deficiente a caricare l'arma Ci mette 30 anni Eh, non si fa così Ok 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 Vediamo un po' Perfettico Perfettico No Ma andata sto cazzo Ma non ero morto sto figlio di Troia Ma quante cazzo di volte devo sparare Ma è porca miseria A volte con un colpo Si fa tutto Ok Andata Mamma mia Ragazzi Perfetto Vai Ottimo Oh Oh cazzo Sono caduto Però dai Se l'abbiamo fatta bene Non siamo morti Questo è importante Penso Ah ma ha preso lo stesso Figlio di Troia Allora Ecco qua Qui è andata Andiamo Andiamo un po' qua Perfetto Ma là che l'hai sentita la mia bomba Eh Mi sei sparato prima nei denti E poi ho preso la mia bomba Beh da me fa piacere Un salve Che bello E siamo pieni E siamo pieni Andiamo un po' Andiamo un po' Andiamo un po' Allora Ok Vabbè Si sono fatti male da solo Ma io Ho piacere Quando siete qua Che bel figlio di Troia Te l'ha mai detto nessuno Ok Ok Data Ok Non sono salito Ma porca troia Eh ovviamente Doveva caricare Dai 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 Mamma mia ragazzi Facciamo Così eh Perché se no Tiene fuori il casino Qua Troppo le volte che vuoi Se no Ok Ok Ah non posso Ovviamente Doveva caricare Perché se no Non è contento Vediamo un po' Ok Ok Abbiamo preso una marea Di munizioni Del coso Della cosa Del coso Beh Italiano È abbastanza sicuro Ah non ho più Munizioni Ok Ma cazzo Sì Un bel figlio di Troia Bisogna dirlo Ok Adesso bisogna andare Oh ma quanta Roba c'era Per carità eh Non è che mi faccia schifo Però Prano Queste munizioni Ma cazzo Però Bello C'è Voi ditemi Se si poteva avere più sfiga Di quella No Andata Enti adesso Insomma Morire un attico Ok Ce l'abbiamo faccionata Scusatemi tanto E Insomma Allora Io però non capivo Perché prima c'erano tutti Quei cose del mitra Quindi adesso Facciamo una bella cosa Facciamo così Ok Adesso io vado un attimo Giù di sotto A vedere se effettivamente Ci sono tutte queste cose del mitra E ci vediamo Apre poco Ok Non c'era niente Vai E vediamo di passare Finalmente Mamma mia che macello Ma mamma mia che macello Ma mamma mia che macello Your services Are no longer Required Although I am gonna miss Your Zippy Personality But don't worry I'll give you Best regards To Mr. Belluccio When I collect Your fee Hehehehe You bastard I'll get you for this Ciao Mr. Belluccio Aia Eh ce l'ha messa sonoramente nel culo col bastardo Ma la pagherà cara Ok Ok qui Pitch continuano a ruotarci in faccia Senza ritegno Ok Carichiamo Da siamo soli Tanto quello non faceva niente Ragazzi Faceva solo Solo casino Carichiamo Ok 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 Benissimo Carichiamo Stiamo attenti Adesso siamo da soli Adesso è che prima Non è che Facesse tanto in più Allora Hai metterlo Il cazzo Insomma Calma Ovviamente Deve caricare Di se va ovvio Ok Allora Scusate Grattatina Al naso Perché se no Non riesco a giocare Andiamo avanti Allora Cosa possiamo fare Malediziono Oh cazzo Ho fatto una Una failata da panico Eh eh Poi questa Quando si gira il joypad È ancora meglio Eh che cavolo Ok Annullata Oh salve Io se facessi E per figlio di pittà Allora Ok Te la diamo faccionata No ancora lei Ok Ci sono fatto male Oh Cosa gradita Perfetto Ho preso la signora Mi dispiace tanto Oh c'è un'altra Ma porca Di quella porca Di quella porca Di quella porca È tutta adesso Vaffanculo Eh morici Ok facciamo così Che non ho tempo Di stare dietro loro Ok Data Finisico Lei ha brutta Intenzioni Vero Ok E vai Oh Allora Cosa ci sarebbe stato Sì io fossi andato Di sotto Oh Salve Brute cose Ecco come ci sarebbero state Ok Mamma mia No ho paura Di dare a vedere Perché se C'è qualcosa Non sembrerebbe niente Eserci Richiamo Oh salve Ok Signora Molto piacere Avevo fatto un taglio Perché se no Non ci si Non ci si riesce Qui È un livello Veramente di merda Fatto di merda Trovo da stronzi Ok Questa è andata Ovviamente Mi è caduto qua Però c'è Però c'ho le bombe Le bombe che non posso usare Perché c'è l'acqua Ok Proviamo con questo Vediamo che succede Vediamo un po' Perché questa è l'unica Vaffanculo Allora Ok Alla che porca miseria Perfetto Sono tanto contento Dai ma muorici almeno Ma sei in fuga te Ok Vai Ok Data Vai Ok Ce l'abbiamo fatta Ok Data Mamma mia Non ci credo No signore Aspetti un attico Lei che Ma guarda te Vuole essere più stronzo Oh male Eh No ho sbagliato St'arma di merda Non ci vuole adesso Ok Andata Mamma mia Non ci credo Vediamo un po' Se c'è qualcosa lì Non si vede un cazzo No No Saltiamo Andiamo Ok 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 E' una miseria Signore Ma fa il culo però Non ce la faccio Allora Signora Fa dei salti da olimpionici Proprio complimenti Eh vabbè Ok Ok Ovviamente Perfetto Dai Ci sono toccato proprio a fagiolo Porca miseria ragazzi Stata dura Oh Un ratto Mamma mia Eh vabbè Stiamo avanti Aspetti un attico Grazie Ok Allora sto prendendo sì o no A quanto pare no Ecco E che cavi Sparavo Quello non lo prendevo Ok Allè Finissimo Perfettico Ecco di Uh Salve Mamma mia che strage Bellissimo Ok Cerco di usare le armi che ho Perché se no è casino Oh cazzo Oh cazzo Ok Andata Mamma mia è pieno 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 Zeppo Opla Opla L'ho preso tutte Tutte Ok Andata Mamma mia ragazzi Che fatica Devo far così Si è aperto qualcosa Quindi in teoria Devo andare via O salve Ok Ok Oh dai Facciamo così si fa bene Un livello che tanto Tanto vale Farlo così Ok Spettico Ok Andata Quindi quasi aperto Vediamo Ok E richiamo Salve Ho scelto proprio un buon momento Per caricare Ecco qua E richiamo Allora qui Adesso sono sicuro che è buono Ok Vai Ok Oh ma Esce anche C'è la sorpresina Insomma oggi Ok Ovviamente Ovviamente Anche quello che spara Doveva venire E lui non è morto Porca miseria Porca vacca Sembrava Uno qua Uno là Uno su Uno giù Farò un danno In destra manica Doveva essere pieno Dai L'abbiamo fatta Ok Oh ma Eh ma Arrivano da tutte le parti Ovviamente Eh no Figuriamoci Ok Ok Vai Mamma mia Oh Cavoli Cavoli veramente Eh ovviamente Vediamo Ok Mamma mia Quanti sono Sono tantissimi Mamma mia Qui non si può andare Vero? Non me l'aspettavo Della gente così Assidua Ecco qui Un massacro di carni Esagerato Ovviamente Questa Arriva allo sputo Di Di cosa Ok Qui li ho visti eh Va bene Questo Mi prendo due la volta Però non so se li uccido Due la volta Ecco qua Oh Cosa Graditissima Scusi un attico Va Ecco qua Perfettico Qua non si può salire No Wow Veramente interessante Scurate per i tagli Ragazzi però È veramente Tosto Ok Ok È di là Porca vacca Quali cose fate bene No Pietta È forte Ma porca miseria Ok Data Eh Cazzo Eh Niente più Veramente tosti Ok carica Ok Andata Andata Oh Mamma mia Signorina Non si vedo le mutande È morta proprio malo È morta proprio La ballerina Mamma mia Io direi che Ci possiamo fermare qua Scusate per i tagli Ma è stato Veramente Morire questo livello L'avete visto È stato Eh che cazzo Ok È stato veramente Tanto difficile Adesso Vediamo Questa roba qui Così almeno Quando scendiamo di là Ci può salire Vediamo Vediamo di sotto Almeno la affrontiamo In un certo modo Vedete ragazzi Della fine Ho deciso di andare un po' avanti Vediamo come va Che ho detto arma Oh cazzo Questa è più potente Questa è più potente Ok Oh ragazzo C'è ragazzo lato Oh ma A un certo punto Ok 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 Eh sì Questa è molto meglio Eh sì Ha tanto potere d'attacco Ok Vai così Vai così Vai così Vai così Mi piaci Ok Aspettiamo che Questi si dovrebbero ammazzare Da soli Esatto Bene Se risparmiamo le munizioni A me va bene Ok Tutte quelle che riesco a risparmiare Mi va bene a me Ok Aia Ora siamo pieni Dai Ah che cazzate che ho fatto Ok Carichiamo Oh ci sono i cannoli lì Ok Bene così Perfettico Ok Mamma mia ragazzi Quanta gente Quanti ratti Ok Andata Adesso Dobbiamo passare di qua Di qua Non mi fa passare La vacca Oh ce l'ho fatta Dove già passare Andiamo Che c'è qui Signorato Salve signorato Ok Ce l'abbiamo fatta Dai siamo Oh cazzo Oh cazzo Mi sono sbagliato Eh beh Questa non sarebbe malo Eh Un secondo Sono di carne Oh non è ancora malo Cavoli Aspetta qualcosa di più Pessante Oh cavoli Perfetto Ok Oh Interessante Oh Signore Porca miseria Eh cavoli Pesante Ok Eh aspettiamo eh Che è meglio Tac Questo Li one shotta con uno Però dai Ecco qua Carichiamo Eh c'è tanta Tanti rai Mi ha fatto una disinfestazione Da panico eh Da panico proprio Ok Eh devo essere vicino Eh se no Non fa un cazzo Ovviamente Oh cazzo Interessante Ok Se calci facessero qualcosa Non è che vi farebbero tutto schifo eh Oh salve Vai Ok Non scusi lei Adesso non è caso eh Ok Oh cavolo Eh no Ho sbagliato Scusate Eh bisogna che faccia così Perché se no Non ce la facciamo eh ragazzi Ok Andata Ce li ho Usiamole Mamma mia Impressante Perfetto Un altro po' Poi ci salutiamo Ah bene Quindi posso tornare tranquillamente indietro Perché lì È interrotto L'avanzata dei ratti Oh cavoli E quindi possiamo scendere Bene Oh salve Eh ovviamente Cazzo Non è possibile Porca miseria Capisco che c'è la vita lì Però Insomma A un certo punto Ok Abbiamo salvato Io direi Scusate sigliozzo Che ci possiamo fermare qui Per questo video è tutto Io vi invito come al solito Se non leggo un commento Se vi piace la serie E fammi sapere cosa ne pensate E per adesso Vi do un saluto Ciao c'è Ciao c'èo Ciao c'èo Ciao c'èo Grazie a tutti.